Ciao a tutti ragazzi sono Aloha Aloha ed oggi volevo fare il video acquisti di dicembre 2018 ho cambiato inquadratura, ho cambiato attrezzatura, ho cambiato un sacco di cose con questo Natale ci sono stati un sacco di acquisti quindi direi di partire subito con Star Comics volume 94 per il Detective Conan, volume in realtà uscito diverso tempo fa ma che io ho recuperato soltanto questo mese e comunque è ancora l'ultimo disponibile da noi che dire un volume niente di che come un po' tutti gli ultimi volumi ma è anche stato l'ultimo volume pubblicato prima dell'entrata in pausa dell'autore quindi si spera che con nuovi capitoli usciti dopo questa pausa insomma si sia riuscito magari a raccimolare un po' di nuove idee perché appunto l'ultima fase e gli ultimi casi sono stati davvero poco ispirati secondo me volume 59 per Fairy Tail, un volume che devo dire a me non è dispiaciuto affatto anzi questa serie bene o male si sta comportando sempre bene ultimamente sempre a livelli abbastanza simili, stabili, non ci sono grandi sconvolgimenti o cose del genere però secondo me stiamo andando verso un epilogo tutto sommato buono e speriamo che siano così anche gli ultimi quattro volumi volume 14 per Ramma Mezzo, sempre la nuova edizione ovviamente che ahimè purtroppo questo caso devo dire non mi è piaciuto molto ed è un peccato perché comunque la serie finora mi aveva sempre dato delle buonissime impressioni però purtroppo questo volume è già il 13 devo dire così hanno avuto dei capitoli secondo me non troppo esilaranti neanche tanto innovativi quindi niente spero che i prossimi siano dei volumi migliori volume 12 per Ajin ovviamente anche questo volume come tutti quelli finora mi è piaciuto molto la storia si sta sviluppando in maniera davvero interessante questo volume tra l'altro è anche molto movimentato quindi bene così secondo me per ora abbiamo di fronte una serie impeccabile anche se io personalmente vorrei vedere una conclusione abbastanza rapida perché già 12 volumi per una serie di questo tipo non sono pochi secondo me andare oltre la ventina è davvero troppo quindi spero che ci si fermi un po' prima nonostante per ora non si veda ancora una conclusione volume 9 per The Ancient Magus Bride un volume davvero fondamentale per la storia di questo manga che sembra porre una cesura fondamentale per l'appunto nella trama di base è stato anche un volume un po' difficile da seguire su alcuni aspetti devo essere sincero però appunto sembra che la storia da questo momento in poi sia destinata a essere molto diversa da come l'abbiamo conosciuta finora quindi staremo a vedere gli sviluppi futuri comunque confermo il fatto che finora il manga mi è piaciuto abbastanza passiamo ai miei recuperi Star Comics e abbiamo Uccio Chiodai Fratelli Nello Spazio volumi dal 23 al 26 al 27 scusate Uccio Chiodai anche in questi volumi devo dire mi è piaciuto molto sicuramente sono agevolato dal fatto che ne ho letti tanti di seguito questo mese però devo dire che appunto mi è piaciuto sicuramente questa non è la parte più bella del manga fino a questo momento e mi sembra abbastanza palese soprattutto perché non si capisce più a questo punto quale sia l'obiettivo di questa storia arrivati appunto al volume 27 però nonostante questo per me rimane ancora piacevole e godibile non me ne mancano molti per completare il recupero poi staremo a vedere come si concluderà si concluderà ovviamente passiamo a Fire Punch di cui ho acquistato i volumi dal 5 al 8 quindi gli ultimi 4 volumi l'ottavo è uscito questo mese dal conclusivo gli altri me li ero persi un po' per strada anche se in realtà questa era una di quelle serie che avevo deciso di bloccare inizio anno per motivi che non ripeto che ho già spiegato in un video però appunto lì decisi di fermare un sacco di serie e questa era una tra quelle diciamo che mi aveva fatto un po' più dispiacere perché comunque mi piaceva era molto interessante secondo me però così lì per lì ho voluto dare precedenza ad altro sono molto contento che si sia conclusa nel giro di pochi volumi ed è per questo che ho voluto prenderli tutti questo mese quelli che mi mancavano che dire nonostante la lunga assenza per me di questa lettura praticamente un anno mi sono piaciuti davvero molto questi ultimi volumi nel complesso l'ho trovata davvero un'ottima serie e niente ve la consiglio perché davvero mi è piaciuta parecchio concludiamo per Star Comics con 5 cm al secondo che è appunto in due volumi una miniserie che devo dire ho preso perché appunto ultimamente ho voluto dare un po' un'accelerazione nei miei recuperi delle opere uscite negli ultimi anni le più acclamate le più gradite che però io mi sono lasciato sfuggire e tra le più gradite negli ultimi tempi c'era appunto questa in due volumi quindi ho detto vabbè prendiamola questo mese però sinceramente non mi ha fatto molto impazzire è di stampo sentimentale e questo non è sicuramente un male però in due volumi così non è pensavo meglio non è brutta sia ben chiaro però mi aspettavo qualcosa in più forse dipende dal fatto che è un manga tratto da una novel o da un film non ne sono sicuro però magari è anche per quello che si è perso qualcosa sicuramente è bello però appunto mi aspettavo qualcosa di più passiamo agli acquisti per Dinit e abbiamo i volumi 1 e 2 per GTO Big Collection in realtà il primo io lo acquistai diverso tempo fa come già spiegato per errore perché non sapevo che la serie che veniva prima era Shonan Junagumi quindi pensai che questa fosse insomma priva di prequel priva di serie antecedenti e quindi presi questa in realtà mi sbagliai e poi presi subito Shonan Junagumi ma questo mese ho deciso di iniziare a leggerla e per questo ho preso anche il box 2 e la sto appunto leggendo per ora mi piace devo dire GTO comunque un manga molto conosciuto e molto acclamato per ora sinceramente per vari motivi preferisco Shonan Junagumi se devo essere sincero ma ciò nonostante è comunque un manga sicuramente molto originale e molto divertente passiamo agli acquisti planet e lo facciamo col botto perché abbiamo Gantz nuova edizione volume 37 il volume conclusivo per questa serie che appunto termina così come me l'ero immaginato insomma non è che mi aspettassi qualcosa di diverso gli ultimi volumi lasciavano presagire una conclusione di questo tipo e da questo punto di vista non posso dire che Gantz sia stata una delusione però se prendo il manga per intero allora penso che sì si possa dire che Gantz è una delusione è una delusione perché la seconda parte del manga non è più brutta della prima è drasticamente meno interessante è drasticamente più confusa e per certi aspetti completamente priva di senso io ho letto nel corso degli anni diversi manga ma più in generale tante opere che non avessero senso che fossero caotiche che come dire davano priorità ad altri aspetti che non fosse la trama vera e propria e andassero a spiegare insomma tutte le intercapedini della storia cioè è capitato di leggere storie confuse che avessero l'ambizione magari una cosa più artistica non una cosa di questo tipo ma Gantz non è quel tipo di manga Gantz parte benissimo proprio perché ha una storia interessante ha dei risvolti sociali notevoli ha un protagonista che ha una caratterizzazione veramente micidiale poi ovvio è un personaggio sicuramente estremamente discutibile ma è proprio questo il bello cioè di Gantz parte con questa storia nella trama e nei personaggi che è veramente interessante e poi la perde completamente è questa perdita che secondo me si sente in Gantz in maniera troppo preponderante ed è difficile consigliare un manga del genere perché è troppo controverso oltre ad essere anche una serie lunga perché sono 37 volumi è un manga che per l'appunto dopo un certo momento ti lascia rischia di lasciarti un po' allibito io bene o male sono contento di averlo letto e sicuramente per certi aspetti lo consiglio anche ma tenetevi pronti perché insomma da un certo momento in poi sicuramente le cose cambiano in modo a dir poco drastico e dopo esserci allungati forse eccessivamente su Gantz arriviamo a Yawara volume 19 volume non meno importante perché anche in questo caso è il volume conclusivo di questa serie io sono contentissimo è stata una serie secondo me bellissima che qui trova la sua conclusione più naturale e soprattutto la fine di questa pubblicazione che è stata veramente un'agonia fin dal primo mese di uscita me lo ricordo febbraio 2013 cioè è stato un disastro pubblicazioni posticipate aumento del prezzo quasi un anno di pausa in alcuni momenti cioè veramente è stata una cosa delirante per fortuna la serie si è conclusa lo stesso anche con un ritardo mostruoso però ne è valsa la pena perché è stato davvero un bel manga e comunque nel complesso secondo me davvero interessante e divertente abbiamo poi Shin Lupin terzo volume 18 che purtroppo non mi è piaciuto granché come ho già spiegato gli ultimi volumi di Lupin di questa serie di questa seconda serie non sono assolutamente niente di eccezionale la sensazione che l'autore abbia dato il meglio in tutti quelli prima e ci può stare perché comunque ormai siamo insomma agli sgoccioli però insomma spero che per i tre restanti volumi si riesca a fare qualcosa di più sinceramente volume 9 per Fruits Basket un volume che mi è piaciuto come quasi tutti i volumi per questa serie ma che ancora sinceramente non vedo diciamo quel capolavoro di cui molti parlano per me finora è una buona storia dei personaggi davvero ben caratterizzati però io questo capolavoro per ora ancora non lo vedo ma sono fiducioso che verrà fuori nel corso dei tanti volumi che ancora mancano e concludiamo con un mio recupero Planet Manga che è Kenichi del quale ho acquistato i volumi dal 38 al 41 e che dire eccezione fatta proprio per il volume 48 tutti gli altri volumi mi sono piaciuti anche molto devo dire ed è per me una novità perché Kenichi francamente spesso è stato più un manga per me come dire poco interessante e a volte addirittura anche poco divertente più che il contrario quindi per me è un po' una novità ed è completamente inaspettata perché cioè siamo arrivati al volume 40 per vedere qualcosa di veramente bello ed emozionante anche per certi aspetti per carità sarà anche colpa della mia lettura che è stata un po' sbarazzina però veramente questi volumi mi sono piaciuti molto e non me lo sarei mai aspettato sicuramente prenderò i restanti con una maggiore voglia rispetto a quella che ho avuto nel recuperare i volumi fino a qui per il resto ragazzi questo video finisce qua come vedete sono stati tanti acquisti io vi auguro un bellissimo capodanno che ci aspetta fra qualche giorno ci vediamo nel 2019 e alohaloha grazie a tutti